Sbriatevi! Bonni è tornata dall'asilo! Ok, ai vostri posti! Buonas! Salve a tutti! Io sono a Foren E oggi giocheremo al Toy Story 3 Questo è il mio primo video che farò Quindi sarà il primo gioco che ho iniziato Vabbè, non ho nessuna memoria Quindi dovremmo rifare tutto da capo Allora, nuova partita E come nome ci scriveremo Foren Proprio il nostro nome Che Foren in inglese significa 4 Quattro quindi Detto In inglese è matematica Orem Ebre Ok Grazie Ok, forse è già fatto Ok, possiamo iniziare La visuale ci sta portando dove? Ok Allora, libro d'avventura Allora vi spiego questa modalità Questa modalità è quando Sarebbe tipo un libro Colorato Vabbè, si vede da lontano Che significa che È tipo il film però in base ai ricordi Quindi questo libro Si tratta dei ricordi Quindi andremo a fare l'ora dei giochi nel Fire Quest E si inizia Non metta a fuoco, bastardo Ok, con la L ci spostiamo Ah, io ho tutti i trucchi Cioè Le cose secondarie Quindi posso pure aiutarvi Se è tipo Let's Fly Può essere Un porco gigante Mai visto Un porco gigante Vabbè, no Non sono molto Vabbè, che si sbaccano Non lo so Andiamo E Qualche bomba, no Non dimenticavo ci È grande Grande, grande Distruggiamo tutto Come se non ci fosse un domani Ok Saremo di qua Facciamo doppi salti Mortali E doppi Caprioli No? No Attento a tutti Non ti preoccupare Perché sei con un forum Quindi non ti devi Proprio Preoccupare di nulla Non ti azzardare a cadere Ok Esplosimi come se non ci fosse un domani L'ho già detto Oh sì, oh sì, oh sì Ancora questo sì Basta, ok Non ho capito Che sei bravo Non cadere Sono andato Ok Quale cassa è messe così Ah Scusate se lo dico Ma sono un pochino Messe un pochino A cazzo di cane Quindi Scendi, ok Qui dava C'è dava? Sì Cribbio Non l'ho visto Wow Qui c'è ancora la lava Quindi lo solo passiamo C'è andata fortuna Questo qua C'è andata una fortuna Porchi che ci guardano Non lo so Ok Mi sembra una nuova In questi Piano Ok 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 Non ho mai visto Un treno così lungo Proprio Cosa dell'altro Pianeta No Ti permettere Giuro che Cade Mario ancora Che bastardo Lo fa apposta Mio Dio Sono fa apposta Proprio Bastardo Wow E Mi ci vorrei Afferrare Ok Ma è stato anche Molto difficile Scherzo Esplosioni Come se non ci fosse un domani Madonna Non ti permettere a cadere Ti squarto Basta Questi zigzag Mio Dio Non ce la faccio più Oh sì Oh sì Oh sì Tutto defarmato Vedi che si spaccano Ma è nuovo So Voglio quella foto da macchina Voglio quella foto da macchina Me l'andrò a prendere Me l'ho presa Via Alieni di merda Non me l'hanno là Che cazzo Ti virili Cos'è Ma Cioè Sarti mortali Per far starmi un ghiada Ok Non ti permettere a cadere Non ti permettere a cadere Sennò di squarto Vai Oh che cacchio Oh maledizio Oh lo sapevo Lo sapevo Oh salvi Dal Dalla morte in persona Ok Ok Abbiamo fatto 3 su 3 E finiamo Il livello Si ferma? Sì No Ma chi lo sa È caduto Giocare con Eddie È sorprestato così Emozionante Un uomo volante Ragazzi Allora Congratulazione L'ho completato Sì Questi non so Cosa siano 400 200 V Sì Completato Giando Non so che cosa Ok Sembra 100 Non cambiamo 200 Ha raddoppiato un po' Quindi Può andare bene Ah ok Sfide completatele Le faremo in seguito Non vi preoccupare Ah ok Mi ha fatto 5 su 3 Si chiama Sono sedere Si bloccate adesso Però Le riusciremo ad andare avanti In qualche modo Schermo nero Ora che vivo qui Non voglio Posso guardare i miei disegni Per aiutarmi a ricordare Tutto quello che è successo Ecco Vedi Ricordi Allora Questo Lo farò In un prossimo video Che Lo farò domani E Al momento Vi caricherò Questo Come video iniziale Che sarebbe Il mio primo video Vabbè Usciamo di qua E io Finisco Qui Il video Dicendovi che Iscrivetevi al canale A mettere mi piace A questo video Se volete Io torno Andiamo Alla schermata di titolo Perché Per far vedere La grande grafica Non È bello Dai Non potete dire niente Solamente Quel disney Pixar Non ci dovrebbe essere O ci dovrebbe essere Però la grafica È sensazionale Ragazzi E E questo Non Manchi nulla Ah Un'ottima cosa Se vi interessa Un canale Che riguarda Anime Che vi dico Ruakfu Lupen Per esempio Queste cose qua Di anime Vi dirò Un nome Lo metterò pure Nella descrizione Nel canale No Che sto dicendo Allora Ripetiamo Tutto da capo Vi darò Un nome Che scriverò Sotto Sotto In descrizione Metterò Un nome E un link Col nome Froms Credo che lo conosciate O forse no Vabbè Ve lo farò vedere Io E E basta Mettete Mi piace Iscrivetevi Al canale E noi Ci vediamo Un prossimo video E questo Ciao a tutti